Il dibattito politico del Comune di Cittadella è arrivato fino al Tar di Venezia. Ad interessare il Tribunale amministrativo regionale erano stati tre consiglieri di opposizione con un ricorso presentato il 14 settembre nel quale venivano contestati alla Giunta da un lato il mancato rispetto delle quote rosa, vale a dire l'insufficienza di presenza femminile, dall'altro la composizione della Giunta stessa, integrata con gli assessori Pio Campagnolo e Marco Simeoni a seguito della dichiarazione di decadenza dell'ex sindaco Giuseppe Pan. Se il 29 ottobre il vice sindaco reggente Luca Piero Bon aveva ristabilito l'equilibrio della parità di genere nominando assessore Marina Beltrame in sostituzione di Paolo Vallotto, dall'altro però il vice sindaco aveva ribadito la legittimità della composizione numerica della Giunta confermando in sei il numero dei componenti. E su questo punto è arrivata la sentenza del Tar che ha riconosciuto la legittimità della Giunta in quanto il numero di assessori è contenuto entro la proporzione di legge di un terzo, vice sindaco reggente compreso rispetto al numero dei componenti del Consiglio Comunale.